Sì, i rumori dei martinetti idraulici nelle braccia di Jan Hoyer, campione europeo 2015, Wunder, il fedele alleato teutonico, Iagenau, Hoyer, ma no, ma che hai mangiato? E' quasi a ritmo con la batteria Jan Hoyer, proprio una spasseggiata di salute, c'è una siga? Sì, e allora, quanto siamo? Quanto siamo? No, 44 mi dicono, nettamente sotto la barriera, dei 50 per Jan Hoyer, e per la seconda salita, oh, bello, ma con uno spruzzo!